buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vedremo una cosa che mai mi sarei aspettato di vedere e sì perché qui ritorna nel canale dopo due anni dall'ultimo aggiornamento il galaxy watch 46 mm con l'ultimo aggiornamento alla one ui 2.0 con tizen 5.5 punto 0.1 e sì effettivamente il galaxy watch originale non si aggiornava da lontano 2019 e infatti se noi andiamo a cercare le informazioni sul software come vedete la one ui watch e si è aggiornata la versione 2.0 la versione di tizen si è aggiornata la 5.5 punto 0 e tutto il resto poi anche si è aggiornato di conseguenza se andiamo a cercare nell'ultimo aggiornamento vedete qui tutte quelle che sono le modifiche che sono state apportate all'orologio prima di prima le vedremo un po sul telefono e poi le vedremo successivamente sul sull'orologio stesso allora innanzitutto c'è la possibilità di avere una notifica migliorata cioè appunto quando si riceve una notifica di messaggio appare subito una finestra del messaggio stesso e si possono anche vedere le immagini del messaggio questa prima era una cosa del messaggio l'immagine dei messaggi che non sempre si poteva realizzare appunto non c'era la possibilità di andare ad eseguire cioè visualizzare sempre l'immagine che si riceveva ma capitava solo se l'immagine aveva un formato adatto che è solitamente da quello delle immagini delle delle dei meme eccetera eccetera quindi un'immagine con un formato un po strano per quanto riguarda invece successivamente abbiamo la possibilità di utilizzare direttamente gli armoji e le bitmoji direttamente dall'orologio ma attenzione perché queste saranno mandate come mms e sappiamo comunque come che gli mms oramai non li usa più nessuno in italia quindi funzione che secondo me comunque completamente inutile poi è stata aggiunta la funzione di screenshot esteso cioè appunto tutto questo non è altro che per la definizione dello screenshot esteso cioè appunto la possibilità di andare ad effettuare uno screenshot con una cattura di più pagine nella stessa schermata e poi e poi l'invio di questi screenshot direttamente all'interno della galleria del telefono beh secondo me questo invece è una funzione abbastanza importante perché permette di condividere lo screenshot dell'orologio direttamente sul telefono poi abbiamo che se ci si fa esercizio con l'orologio la voce guida e viene inviata attraverso le cuffie connesse e non più verso l'attraverso l'orologio quindi bisognerà connettere le cuffie all'orologio poi abbiamo avuto abbiamo anche le voice notification per la distanza accumulativa il battito cardiaco è anche il la funzione di auto l'app of running cycling experiences cioè appunto quando si fanno degli esercizi di corsa o ciclismo c'è la funzione di autogiro cioè appunto viene realizzata la l'acquisizione di un nuovo giro in automatico quindi se voi per esempio girate in cerchio in un posto quando ritornerete in quello stesso punto ovviamente il gps deve essere attivato per poterlo funzionare il dispositivo registrerà un nuovo giro automaticamente senza che voi dovrete fare nulla allora quindi per farvi vedere che effettivamente il galaxy watch non si aggiornava dal 2019 andando in questa pagina potete vedere appunto come questa qui è l'ultimo aggiornamento che ho ricevuto l'altro giorno ma se appunto vediamo qua abbiamo che il galaxy watch non si aggiornava dal 29 dicembre 2019 quindi appunto è stato un aggiornamento abbastanza importante è anche arrivato poi piuttosto in ritardo allora andiamo quindi a vedere negli screenshot poi successivamente all'aggiornamento è stato anche aggiornata tutta la pletora di applicazioni che sono presenti all'interno del galaxy watch alcune sono da scaricare altre invece sono di sedi già preinstallate sul dispositivo però comunque vediamole con calma allora quindi sono state aggiornate le applicazioni questo era lo screenshot dell'aggiornamento mentre invece poi andiamo abbiamo che per il camera controller è stato aggiornata la compatibilità dei devices poi abbiamo una nuova user interface sulla one ui 2.0 supporta unlimited recording in standard mode and up to 10 minutes for speech to speech text mode cioè appunto in questo caso abbiamo un miglioramento della della registrazione che non è più limitata a 5 minuti ma ora è illimitata poi abbiamo invece per il l'applicazione cronometro abbiamo che è stata aggiornata la one ui per il galaxy watch active e poi successivamente per test in 3.0 e tanti altri aggiornamenti però appunto quella da vedere l'ultima perché è quella che è stata aggiunta poi abbiamo anche l'aggiornamento di watch bx b voice timer smart things timer spotify che è un'applicazione che però si scarica il galaxy internet il samsung internet per galaxy watch e anche l'altibarometro che è stato aggiunto con un bug fixing ora per quanto riguarda quindi il telefono possiamo metterlo da parte perché effettivamente non ci servirà più passiamo quindi ora all'orologio allora innanzitutto vediamo come sulla pagina delle applicazioni di samsung sono state aggiunte tutta una serie di watch faces che appunto vi faccio vedere subito se noi andiamo così abbiamo appunto questa watch faces che è il nuovo digital analog poi abbiamo questa watch face i nomi ve li potrò dire subito il quad hive poi abbiamo quindi il digital dash l'acentric l'analog dash il classic adventurer il casual minimalist il modern minimalist e il modern analog successivamente queste invece sono tutte watch faces che già c'erano già non ce ne sono altre allora quindi io direi che reinserisco la watch face che avevo già queste però non sono modificabili ma come sono ve le tenete allora successivamente allora come potete vedere qui io ho aggiunto il la vista a lista delle varie applicazioni se vedete l'applicazione omnitrix è perché ho un bambino molto piccolo che ci ha giocato e quindi l'ho tenuta soltanto per tenerlo contento se magari dovessi rincontrarlo allora per quanto riguarda le watch faces abbiamo appunto il watch all face on il watch face order il notification or indicator lo show status bar long going icons eccetera eccetera allora che senso long going icon sarebbe appunto la posizione dell'icona dell'attività che è in corso se noi la vogliamo centrata la vogliamo decentrata a destra o decentrata a sinistra un attimo solo che disattivo l'internet perché altrimenti le notifiche andranno a rovinare sempre tutto quindi poi abbiamo a per quanto riguarda la lista delle app questa non è una novità della yui 2.0 ma c'era già poi successivamente andiamo nelle applicazioni list view out on open apps che sono tutte disattivate perché c'è la modalità lista sound mode ringtone notification sound volume ringtone vibration notification vibration cioè queste sono tutte impostazioni che già c'erano non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda questa sezione successivamente in brightness abbiamo appunto tutte queste informazioni che c'erano già io ve le faccio scorrere perché appunto magari dove poterste notarne qualcuna nuova ma appunto vi dirò io quali sono le lezioni nuove allora qui ce n'è già una non è l'edit quick panel ma appunto è relativa ad una nuova icona presente nel quick panel ovvero è la possibilità di spegnere direttamente l'orologio dal quick panel quindi noi abbassiamo il quick panel andiamo a scorrere e vediamo che se premiamo sulla nuova icona abbiamo la comparsa del menu di spegnimento senza premere il tasto di menu a lungo successivamente abbiamo vabbè le opzioni di connessione no non ci interessano perché sono sempre le stesse input lo stesso security location account battery about watch vabbè potete vedere appunto come anche qui riporti la voce one ui watch version 2.0 tizen version 5.5.0.1 eccetera e poi anche la versione software e per questo per il menu impostazioni è tutto poi successivamente sono state aggiunte anche delle modifiche grafiche alle varie applicazioni per esempio abbiamo che ora i passi sono visualizzati in questo modo c'è una minimissima differenza grafica forse un verde leggermente più scuro l'applicazione altibarometro con la sua watch face ha questo tipo di indicazione ora il menu delle canzoni ha un look ridisegnato ma nemmeno tanto è leggermente cambiato soltanto il colore lo stress la misura dello stress la possibilità di misurare il battito cardiaco ecco qui vedete appunto già una prima novità non ci sono più i cerchi intorno a tutte le app ma ora c'è questa visualizzazione in questo modo cioè 4 ovviamente se io torno indietro clicco il tasto menu torna indietro abbiamo che queste sono le nuove icone di visualizzazione successivamente questo invece non è cambiata le ore di sonno non sono cambiate e poi invece se aggiungiamo dei widget possiamo vedere come appunto ci siano delle leggerissime modifiche grafiche a un po' tutte quante le applicazioni sono magari state aggiunti dei nuovi widget ma niente di così trascendentale è stato appunto aggiunto questa nuova questa nuova watch face che ovviamente non potrei mai usare niente di così trascendentale una opzione invece che è stata tolta è quella della registrazione dei piani saliti questo perché? perché il galaxy watch nell'ultimo tempo ma anche altri dispositivi samsung nell'ultimo periodo non riuscivano più a registrare in modo ottimale i piani saliti dal dispositivo infatti per esempio io magari siccome per il lockdown sono fermo in casa salgo quel piano di scale per arrivare in cucina ma successivamente non faccio più niente cioè non faccio più attività non faccio più niente perché studio in cucina quindi abbiamo che la registrazione dei piani continuava ad andare avanti e mi registrava anche 50 piani di scale saliti 60 piani di scale saliti una volta ne ha registrati anche 110 quindi samsung l'ha eliminata definitivamente per sempre non ci sarà più questa funzione per quanto riguarda invece la durata della batteria non vi posso dire granché questo perché l'aggiornamento è arrivato comunque soltanto avanti ieri sera quindi l'ho provato per bene soltanto un giorno però comunque dai primi dati di batteria io ero partito dal 75% di batteria perché l'aggiornamento era da ben 300 mega forse l'aggiornamento più grande che ho mai visto sul galaxy watch e infatti ci ha messo quasi mezz'ora per installarlo perché dopo che viene scaricato l'aggiornamento sul telefono questo viene copiato sull'orologio e lì ci ha messo un buon 10 minuti e poi per riavviare tutto l'orologio e installare l'aggiornamento ci ha messo un'altra decina di minuti sicuramente non un fulmine perché ovviamente consideriamo anche le specifiche che ha però comunque c'è da fare un plauso a samsung questo è dovuto perché il dispositivo comunque in teoria ha superato già il suo periodo di aggiornamenti perché samsung garantisce gli aggiornamenti per due anni i suoi dispositivi mentre qui ne sono passati già più di tre quindi un plauso a samsung che ha deciso di ottimizzare ulteriormente questo galaxy watch forse perché ancora si vende non so, non conosco gli ultimi dati di vendita quindi un plauso a samsung per questo aggiornamento c'è anche un'altra schermata che vi volevo far vedere relativa all'aggiornamento che è questo appunto in cui ora compare il logo Tizen quando si aggiorna siccome comunque gli aggiornamenti erano piuttosto vecchiotti non ricordo esattamente se c'era già o meno perché ovviamente il tempo passa e non ci si può ricordare tutto quindi per questo video è tutto ci sono stati anche dei leggeri miglioramenti sull'autonomia forse perché ancora non lo posso provare poi anche dei leggeri miglioramenti la fluidità quello sì l'ho potuto notare e vi volevo far vedere la funzione dello screenshot esteso come ultima cosa allora per fare uno screenshot si fa come? si preme il tasto menu quello in basso e si scorre ok viene fuori questa schermata c'è lo scorrimento quindi io faccio tutto lo screenshot che voglio magari arrivo qua faccio done ovviamente nella lingua italiana sarà tutto in italiano cioè non vi credete che sia in inglese e successivamente dopo qualche secondo si dovrebbe sbloccare la foto sul telefono ecco qua infatti come potete vedere è arrivata qui abbiamo appunto tutto lo screenshot esteso della delle impostazioni sul Galaxy Watch questa è una funzione secondo me ripeto molto molto interessante anche se non lo userete chissà quanto comunque quindi per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video un saluto da RealUser101 saluti una no Hole attra un